Eccoci con Manuel, ciao Manuel, ciao Gri, eccoci qua, che oggi ci presenta un tema molto originale che veramente merita di essere disquisito, tra l'altro non era mai stato toccato sul nostro canale, quindi ottimo che l'hai pensato e adesso illustracelo, prendersi cura di se stessi, vai! Esatto, allora questa è una delle cose che inizialmente diciamo può sembrare banale, ma che poi banale non è, perché poi lo vediamo anche ai corsi, ai corsi master, che purtroppo gli studenti si presentano in delle condizioni che se vogliamo dagli un voto sono proprio insufficienti, ok? Proprio perché trascurano uno degli aspetti più importanti di noi, ovvero quello di prendersi cura di noi stessi. Questo qui diciamo ha diverse sfaccettature, ma poi la prima cosa che salta all'occhio è proprio la cura di una persona, quindi si prende cura di sé, se si riconosce di avere un valore. E poi anche agli occhi degli altri questo emerge perché nel momento in cui noi ci prendiamo cura della nostra immagine, magari del nostro abbigliamento, chiaramente la cura di noi stessi è intesa anche come immagine. Perché questo? Perché alcune volte anche qui gli studenti si presentano in delle condizioni indecorose, quindi non possiamo presentarci in qualche modo male. Poi l'importanza di prendersi cura di noi stessi è anche intesa come formazione, quindi come concetto di valore, ovvero la persona che si stima diciamo sempre alle ragazze. Quindi questo qui molte lo notano, perché questo? Perché le ragazze sono molto attente ai dettagli, loro stesse in primis ovviamente avranno l'occhio allenato anche nei confronti dell'uomo. Quindi diciamo avere un'immagine e avere un'identità nello specifico di cui facciamo vedere che siamo una persona che teniamo a noi, magari che teniamo alla nostra vita, emerge un presupposto. Ovvero che questa persona vive una qualità di vita elevata, vive una qualità di vita dove si prende cura sentenzialmente di sé stesso. Diciamo in un'ipotetica relazione con questa persona, la ragazza andrà avanti sicuramente con chi avrà un tenore di vita con una persona che ha valore, non con una persona che magari non riesce neanche a prendersi cura di sé stesso e della vita in generale. Quindi la prima cosa fondamentale che dobbiamo tenere a mente è l'abbigliamento. Anche il modo in cui ci vediamo allo specchio ha un grande impatto sulla nostra identità e sulla sicurezza in noi stessi, anche con la quale andremo ad approcciare la nostra vita quotidiana. Se tutti i giorni magari ci vestiamo con la solita tuta, è ovvio che anche la nostra percezione di noi viene in qualche modo minata, in modo negativo. Quindi magari creando in noi delle credenze su noi stessi che magari sono sbagliati. Quindi magari un look più dettagliato e d'impatto ci farà in qualche modo acquisire notevole sicurezza in noi stessi. Ma chiaramente non per questo dobbiamo per forza vestirci in giacca e cravatta, ok? Ma comunque diciamo un outfit che rispecchia il nostro modo di essere e che ci faccia comunque sentire al nostro agio e in qualche modo ci rifletta come un'immagine allo specchio di una persona. Cioè quando noi ci riflessiamo allo specchio dobbiamo dire wow, dobbiamo piacerci anche noi. Poi, la seconda cosa fondamentale è prendersi cura del proprio corpo. Ma qui diciamo voglio citare una frase di Ippocrate che diceva il corpo è il mio tempo. Cosa sta a significare questo? Ovvero che il corpo deve sempre essere curato. Perché è rispettato? Ma perché questo? Perché noi ce lo portiamo avanti per tutta la vita. Sarà il nostro involucro per tutta la vita. Questo qui, chiaramente, come possiamo farlo? Dobbiamo in qualche modo avere un esercizio fisico chiaramente tutto il giorno. Tutti i giorni no, però comunque almeno un paio di volte alla settimana. Ma anche comunque tenere alla nostra alimentazione. Perché questo? Perché comunque l'esercizio fisico permette al nostro corpo di rilasciare endorfine. E questo chiaramente ci aiuterà anche a sentirci meglio. Quindi diciamo che l'attività fisica migliora in toto il nostro equilibrio psico-fisico e chiaramente anche al nostro stato d'animo. Poi, cosa anche essa fondamentale, bisogna iniziare ad amare se stessi. Qui ci tengo a precisare che dobbiamo imparare ad amare se stessi. Non significa in qualche modo fare shopping o iniziare a mangiare tutto quello che si vuole. Significa imparare ad amare se stessi vuol dire stare bene per rispettare prima di tutto te stesso e poi altri. Quindi bisogna cercare di capire quali sono gli elementi tossici nella nostra vita, cercare di eliminarli, invece cercare di capire quali sono quei valori positivi che cerchi. E dobbiamo comunque in qualche modo cercare di coltivarli e portarli avanti. Poi, per finire sicuramente è sapersi ascoltare. E qui molte persone sicuramente non si sanno ascoltare. Succede spesso che magari durante, come dicevamo anche prima, nelle relazioni, diciamo perdiamo un po' la bussola e tendiamo a dimenticare noi stessi. E questo di conseguenza ci andrà anche ad influenzare il nostro stato emotivo. Quindi non solo, non saremo molto felici, ci può apportare anche uno stato psicofisico deficitario. E molto probabilmente avremo le solite ansie, saremo delle persone frustrate e in qualche modo questo non significa prendersi cura di noi stessi. Qui diciamo, possiamo andare a reagire con una tecnica, non tutti magari la proveranno, però è la meditazione. La meditazione porta molto alla scoperta interiore del nostro io, ma soprattutto ci permette di entrare più nel profondo con noi stessi. E cercare di capire quali sono quelle esperienze che magari ci hanno in qualche modo cambiato la nostra vita. E entrare proprio ad immergerci noi, sicuramente ci farà in modo che andremo a togliere tutte quelle che sono le cose deficitarie. Perfetto Manuel, assolutamente sì. E aggiungo solo un'altra cosa, prendersi cura di se stessi. Manuel è partito da un concetto, diciamo, inizialmente di natura fisico-estetica. Mi raccomando ragazzi, prendiamoci cura del contenitore, perché è importante, come ha detto lui, il corpo è quella struttura che praticamente ti accompagna per tutta la vita. e io sono estremamente d'accordo, prendiamoci cura anche del contenuto, ok? Quindi cerchiamo di coltivare anche la mente in maniera proporzionale, perché chiaramente anche il cervello è quella parte che in un qualche modo deve evolvere e deve accompagnarci in tutte le decisioni importanti e non della nostra esistenza. Perdonate, ma è passato un motorino che aveva la marmita taroccata. Perfetto, ok, ti ringrazio Manuel, alla prossima. Ciao, ciao Cri, alla prossima.